Ancora un consiglio comunale ad Ariano Irpino, il prossimo 30 dicembre, l'ultimo del 2019, per l'approvazione urgente del bilancio consolidato, uno strumento indispensabile per la macchina comunale, una nuova bocciatura da parte dell'opposizione significherebbe bloccare ogni possibilità di assunzione e contratti, tenuto conto anche dei numerosi pensionamenti in atto, un disastro in pratiche che comporterebbe una pesante sanzione a carico del comune, oltre ad una paralesi totale della città, dal vice sindaco Laura Cervinaro un appello alla minoranza ad un grande senso di responsabilità. Ci sono tante emergenze e il senso di responsabilità di cui parlano in questo consiglio comunale a parole, nei fatti concreti, io non lo vedo, sarà un problema solo mio, ma la responsabilità sarebbe stata votare il bilancio consolidato, la responsabilità sarebbe stata soprassedere sui campetti di calcio, quindi noi dobbiamo recuperare prima i crediti, poi possiamo procedere alla manutenzione dei campetti, non fare debiti, abbiamo già i debiti, cioè vantiamo già dei crediti, a questi aggiungiamo anche il prestito per fare i lavori che oggi sono stati votati, penso che sia effettivamente, siamo veramente all'assurdo.